Benvenuti nel mondo degli orologi Lorenz. Fondato a Milano nel 1934, Lorenz è un marchio di orologi italiano che si è guadagnato la reputazione di produrre orologi di alta qualità, dal design elegante e raffinato, ma al tempo stesso accessibili a un vasto pubblico. Grazie alla sua capacità di coniugare artigianalità, tecnologia e stile, Lorenz è diventato un marchio di riferimento nel settore dell'orologeria italiana ed europea. Lorenz offre una vasta gamma di orologi per uomo e donna, che spazia dai modelli più classici e tradizionali, a quelli più moderni e innovativi. Tra i modelli più popolari del marchio, troviamo gli orologi cronografi, i modelli sportivi e quelli da dress, tutti caratterizzati da un design elegante e curato nei dettagli. Gli orologi Lorenz sono realizzati con materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, il titanio e il PVD, e sono dotati di movimenti svizzeri e giapponesi, garantendo prestazioni affidabili e precise. Negli ultimi anni, Lorenz ha continuato a espandersi a livello internazionale, consolidando la sua presenza in Europa e aprendo nuovi mercati in America Latina e Asia. Nonostante il grande successo, il marchio Lorenz resta fedele ai suoi valori fondamentali, la qualità, l'artigianalità, lo stile e l'accessibilità, offrendo orologi di alta qualità a prezzi competitivi. Per chi cerca un orologio di alta qualità, elegante e accessibile, Lorenz è la scelta perfetta. Grazie alla sua vasta gamma di orologi e alla sua attenzione ai dettagli, Lorenz è un marchio che offre qualità, stile e prestazioni affidabili a un prezzo accessibile.